Io ora vi devo lasciare perché come vi dicevo sono qui per motivi personali per cui devo allontanarmi però mi consenta attraverso la televisione di ringraziare il vice del fuoco che si chiama Angelo Moroni in servizio ad Urbino che ha tirato fuori delle macerie Giorgia, volevo ringraziarlo e con questo vi saluto Grazie, grazie Moroni, vedevo che invece a Mirandola volevano aggiungere delle cose C'è abbandono onorevole? C'è abbandono onorevole? C'è abbandono onorevole? C'è abbandono onorevole? Eppure ancora pagata con soldi nostri Calma, calma Eh no, rimanga più adesso Eh deve andare Rimangiamo noi Buonasera a tutti, la ringrazio per chiedere Buonasera, vabbè, avrà un impegno Il governo che se ne va, il rappresentante del governo che se ne va, è una vergogna Vabbè Rimaniamo, rimaniamo noi Voi, certo, voi rimanete anche perché qualche problema lì c'è C'è abbandono onorevole? Sì C'è abbandono onorevole? Sì C'è abbandono onorevole? Sì C'è abbandono onorevole? Sì Sì